E adesso parliamo dello Z Flip 6 Vi chiederete perché inizia la recensione dello Z Flip 6 con un Motorola Razr 50 Ultra in mano? Perché lo so, io vi conosco, penserete subito a lui quando vi parlerò delle caratteristiche del nuovo pieghevole di Samsung Ma vi dico una cosa, se avete visto la mia recensione del Razr 50 Ultra lo saprete Il mio sample, così come quello di Guerz e di altri miei colleghi, ha un problema con il sensore di prossimità Che lo rende praticamente quasi inutilizzabile in chiamate con i messaggi vocali Ho parlato con Motorola, mi hanno detto che uscirà un aggiornamento per risolvere il problema Ma se io non vedo non credo, quindi finché non uscirà questo aggiornamento non farò confronti Fatemi sapere se volete un confronto tra l'altro tra i due smartphone E in questa recensione non lo prenderemo tanto in considerazione Ma adesso parliamo di lui perché sulla carta lo so che voi penserete che le novità che introduce non sono tante In effetti è così, secondo me questo Z Flip 6 a differenza dell'anno scorso Anno in cui Samsung lo ha proprio rivoluzionato, soprattutto per quanto riguarda il display esterno, la cerniera eccetera Questo Z Flip 6 è come una sorta di affinamento della generazione precedente Perché è più sottile, è più veloce, ha tanta intelligenza artificiale, lo smartphone più longevo Ha una nuova certificazione, una nuova cerniera, ha una batteria più capiente, un nuovo sensore per la fotocamera Quindi vedete, anche se da un punto di vista estetico vi sembrerà molto simile alla generazione precedente In realtà le novità ci sono Ora parliamo del design Come vi ho detto, da un punto di vista estetico a prima chitto Questo smartphone sembra molto simile alla generazione precedente Ma secondo me non lo è, non lo è perché le cornici che sono in armor alluminium sono molto più nette Il che a mio avviso migliore il grip, è più facile da impugnare Cambiano i colori che questa volta diventano opachi Sia le cornici che la cover posteriore sono opache A me questa colorazione piace davvero tantissimo Però forse mi piace di più quella verde Comunque i colori di quest'anno sono veramente belli Inoltre quest'anno Samsung attorno alle fotocamere ha messo questi ring colorati Che riprendono il colore dello smartphone A me piace di più rispetto all'anno scorso È pur vero però che visto così, visto con lo schermo esterno acceso Sembra praticamente identico al flip Questo sì perché lo schermo esterno in sostanza rimane uguale a quello dell'anno scorso Ma a questo ci arriviamo Una cosa volevo dirvi che secondo me è molto importante Così come abbiamo visto nel Fold, queste nuove colorazioni scivolano tanto Scivolano tantissimo Quindi vi consiglio di utilizzarlo con una cover C'è anche la nuova cerniera Nuova cerniera che secondo me è la migliore cerniera su uno smartphone clamshell Che permetterà, guardate, di gestire le angolazioni veramente come vi pare Guardate, adesso io ce l'ho così e non si apre Nuova cerniera che, devo dire, da un punto di vista tecnico È secondo me la migliore cerniera Non c'è niente da fare, da un punto di vista delle cerniere Quelli di Samsung sono veramente un passo in avanti Nuova cerniera che ci porta a parlare degli schermi Perché lui è uno smartphone IP48 Questo vuol dire che è resistente ad acqua, dolce e polvere E qui c'è il solito compromesso di cui abbiamo parlato anche con il Fold Per mantenere questa certificazione, diciamo così Purtroppo c'è il problema della piega interna nello schermo Che c'è, ma si vede decisamente meno rispetto all'anno scorso Ragazzi, l'anno scorso io l'ho cricata veramente tanto Quest'anno invece si vede veramente poco E anche sotto le dita, sapete, quando scorrete così Effettivamente si vede che Samsung ha cercato di ridurre il problema E lo ha fatto anche grazie ad un nuovo strato protettivo nello schermo interno Schermi che effettivamente non cambiano Non cambiano nelle dimensioni, non cambiano nella tipologia Lo schermo interno è sempre un Dynamic AMOLED Full HD Plus a 120 Hz Lo schermo esterno è sempre uno schermo che ha 60 Hz di frequenza di aggiornamento E qui so che il vostro cervello di nerd penserà subito allo schermo del Motorola Razor 50 Ultra Perché è full screen? È perché ha 165 Hz Sì, lo schermo del Motorola Razor 50 Ultra è uno schermo migliore Non c'è niente da fare Ma se i 60 Hz dello schermo esterno di questo Z Flip 6 a me sinceramente non interessano Perché per un display del genere 60 Hz vanno più che bene Quindi 165 Hz forse sono un pochino esagerati Quelli del Motorola Razor 50 Ultra Anche perché consumano più batteria Quello che avrei voluto è che Samsung avesse pensato a ridurre un pochino le cornici Non il form factor dello schermo Perché avere uno schermo esterno full screen Che va sotto le fotocamere Comunque non vi migliora l'esperienza utente Perché quella delle fotocamere è una zona in cui non potete interagire Anzi se poi le app non sono neanche ottimizzate È una zona che vi nasconde gli elementi grafici Però Samsung poteva farlo Poteva ridurre un pochino le cornici del suo schermo esterno In modo tale che insomma avrebbe potuto dire Ragazzi noi sotto la fotocamera lo schermo non ce lo vogliamo mettere Perché secondo noi è inutile Vogliamo continuare a mantenere questo taglio del pannello Che effettivamente è riconoscibile Se uno vede un pannello esterno del genere dice che quello è un flip Però vi abbiamo aumentato la diagonale dello schermo Riducendo le cornici Purtroppo però Samsung questo non l'ha fatto Sicuramente lo vedremo secondo me nel prodotto dell'anno prossimo Però c'è una grande novità per quanto riguarda il pannello È una novità tecnica Non cambia la tipologia di pannello Ma cambia un fattore importantissimo per questo tipo di prodotti Ed è la luminosità di picco Perché se lo schermo interno continua ad essere da 6,7 pollici E lo schermo esterno continua ad essere da 3,4 pollici In realtà Samsung dice che lo schermo interno dovrebbe raggiungere una luminosità di picco Molto più alta rispetto all'anno scorso Di 2600 nit Io ho fatto i miei test E a 2600 nit non ci sono arrivato Però ho superato i 2000 Ed è comunque un ottimo risultato Rispetto ai 1500 circa che c'erano nello smartphone dell'anno scorso E questa è una cosa molto importante ragazzi Perché gli smartphone pieghevoli hanno un problemino Hanno questi pannelli che si vedono che sono in plastica Cosa vuol dire che sono in plastica? Vuol dire che quando voi andate sotto la luce del sole Si vede proprio questo piccolo strato Che rende diciamo l'immagine non bella al 100% Quindi più luminoso è il pannello minore è questo effetto In sostanza con lui da un punto di vista proprio di utilizzabilità In condizioni di luce diretta io me lo sono portato al mare Samsung ha fatto veramente tanti passi in avanti Perché si vede veramente molto bene sotto la luce diretta del sole E un passino in avanti Samsung l'ha fatto anche per quanto riguarda le fotocamere Anzi forse due passini in avanti Il primo è perché c'ha l'ultra wide Adesso c'è questo trend di eliminare l'ultra wide Mettere lo zoom perché gli smartphone devono fare questi ritratti bellissimi Hanno deciso di fare ritratti belli Ma chi se ne frega dire io non me ne frego dei ritratti Su uno smartphone clamshell voglio l'ultra wide E qui per fortuna c'è Ultra wide che però è un pro e un contro ma a questo ci arriviamo Il secondo pro è che cambia il sensore principale Adesso è 50 megapixel Ed è un sensore nettamente diverso rispetto ai 12 megapixel dell'anno scorso È un sensore inoltre che grazie alla sua risoluzione e anche alla sua qualità Vi permetterà in sostanza di avere tre fattori di ingrandimento Buoni utilizzabili Cioè di buona qualità Perché con il pixel binning riuscirete ad avere un zoom 2x veramente buono Con la fotocamera principale Adesso le fotografie scattate con la fotocamera principale di questo flip Sono veramente molto buone La gamma dinamica è gestita egregiamente I colori sono molto naturali In condizioni di controluce comunque riesce a gestire bene i chiari scuri Le ombre Vengono foto veramente belle E così anche di notte Devo dire che la gestione proprio di tutta la modalità notturna Con il sensore principale È veramente molto buona Samsung ha fatto bene a cambiare il sensore della fotocamera principale Il contro del sensore dell'ultrawide Che rimane lo stesso identico sensore dell'anno scorso Non ci sono tante novità per quanto riguarda l'ultrawide Se non quella delle elaborazioni software Che quest'anno secondo me è migliore rispetto agli anni precedenti E questo divario si vede soprattutto di notte Vedete io vi sto facendo vedere dei sample Con pochissima luce Veramente pochissima luce Perché io li spremo proprio questi sensori Vedete che la differenza tra i due sensori insomma è notevole La fotocamera frontale è buona Inutile che stiamo lì a parlare Perché i selfie ve li farete con l'ultrawide della fotocamera principale Utilizzando ovviamente lo schermo esterno Buoni video che possono essere registrati in 4K 60fps Con tutte le fotocamere E che hanno un'ottima stabilizzazione Migliore rispetto a quelle che abbiamo visto nel Motorola Per esempio E così come nel Motorola Anche in questo Z Flip 6 C'è una nuova modalità camcorder Con la quale voi impugnando lo smartphone così E mettendovi a registrare un video Avrete l'anteprima qui E avrete qui una piccola interfaccia Con la quale potrete gestire la registrazione e lo zoom Con il pollice È una cosa che mi piace? No È una cosa che io personalmente trovo molto scomoda Però effettivamente Il fattore nostalgia è sicuramente assicurato E vediamo quindi all'hardware Perché qui ci sono tante novità Stamplagon 8 di terza generazione 4G Identico a quello che abbiamo visto nello Z Fold 6 12 GB di RAM 256 O 512 GB di memoria interna Ragazzi è uno smartphone Con cui potete farci di tutto È uno smartphone che ha un hardware Da top di gamma Punto Quindi è inutile che stiamo qui a discutere troppo di queste cose La vera novità ragazzi però sta nel sistema di gestione delle temperature Adesso Lui è il primo flip Il primo smartphone con questo form factor Ad integrare una camera di vapore E voi direte che me ne frega della camera di vapore No Pensateci È importante Perché? Cosa fa questa camera di vapore? Prende il calore Diciamo Cerca di ridurlo un pochino E poi lo butta fuori dallo smartphone In modo tale da gestire le temperature Che sono altissime Di questo nuovo processore di Qualcomm Questo vuol dire che Lui riscalda Riscalda Rispetto alla generazione precedente Secondo me scalda di più E scalda soprattutto qui Nella zona dove sta lo schermo esterno Adesso È un riscaldamento Che tende a ridurre Le prestazioni dello smartphone? No È un riscaldamento buono È un riscaldamento Che butta fuori il calore Quindi gestisce meglio Le temperature interne Questo però non esclude Che il Flip 6 Non soffra di thermal throttling Perché ne soffre Più del fold E qui diciamo che In linea generale Nonostante abbiano lo stesso hardware Sul fold Le prestazioni Sono migliori Per più tempo Ecco Diciamo così Qui invece Un po' di thermal throttling c'è Però ragazzi Stiamo parlando di un prodotto Dalle ottime prestazioni Tornando a cose più normali L'audio in capsula È veramente molto buono Non ho Notizie ufficiali Circa quello che ho visto per dire Ma secondo i miei test Utilizzo un sensore di prossimità virtuale Che però è tarato così bene Che voi non noterete neanche la differenza Quindi fate finta che ne ha uno Uno vero Perché non vi darà nessun problema Con niente Buono la ricezione della rete cellulare Ormai Samsung È su livelli molto alti Così come l'audio stereofonico Che si sente veramente molto bene Inoltre è sempre ottima La connessione alle reti wifi Sensore per impronte digitali Sempre posizionato nel tasto d'accensione Sempre veloce Da un punto di vista hardware Lui non ha niente Da invidiare Agli ultra premium phone Ai top di gamma È un top di gamma A tutti gli effetti E lo è anche dal punto di vista Del software Perché è il flip più longevo di sempre Sette anni di aggiornamenti Di major update E sette anni di aggiornamenti Di sicurezza Rimane sempre la domanda Riuscirà a resistere Sette anni di apertura e chiusura Chi lo sa Però da un punto di vista Di politica di aggiornamenti Samsung sta facendo lavoro E greggio Quando vai 6.1.1 A personalizzare Android 14 Tutto quello che abbiamo detto Per il fold Vale anche per il flip Quindi ci sono tutte le modalità Per l'utilizzo dello smartphone Da piegato C'è la modalità Che vi permetterà Di spostare Qualsiasi applicazione Nella schermata superiore Del dispositivo Ora Proprio come nel fondo Quindi Il punto centrale Proprio del dispositivo È la nuova Galaxy AI Galaxy AI Che punta tutto Sulla intelligenza artificiale Generativa Potrete per esempio Disegnare A mano libera Uno scarabocchio L'intelligenza artificiale Lo interpreterà E vi creerà Delle immagini In base a diversi stili Molto più realistiche Che devo dire Che funzionano molto bene Potete per esempio Disegnare su una foto Quindi non è che sono andato A cancellare gli elementi Di disturbo Questo già c'è Nella vecchia versione Della Galaxy AI Ma potrete disegnarci E l'intelligenza artificiale Vi creerà Proprio un'immagine Molto realistica Certe volte Di ciò che avete disegnato C'è per esempio Il nuovo traduttore Che è veramente molto comodo Adesso che vado in Cina Per un altro brand A fine agosto Voglio provarlo Perché In sostanza Voi mettete lo smartphone Così L'interlocutore Vedrà la sua lingualetta Qui E voi vedrete La vostra lingualetta Nello schermo interno Quindi è una cosa molto comoda Un'altra novità Sta nel traduttore Delle chiamate Che adesso A differenza di quando Accadeva prima Che era utilizzabile Solo con l'applicazione Telefono Adesso invece Samsung l'ha aperto Anche da applicazioni Di terze parti Quindi ragazzi Ancora una volta Io non voglio ripetermi Perché Lo dico spesso E spesso Alcuni di voi Sono d'accordo Alcuni di voi Invece un pochino meno Ma da un punto di vista Software Loro stanno avanti Anni luce Rispetto a tutti Gli altri Non c'è niente da fare Fatemi sapere Cosa ne pensate Nei commenti Ci sono novità Poi anche per la batteria Che passa a 4000 mAh Ed è una batteria Che è più grande Dell'anno scorso Leggermente Che gli dà La migliore autonomia Nella storia dei flip E vi permetterà Di arrivare Con un utilizzo intenso A fine serata Va detto però Che c'è sempre Uno Snapdragon 8 Di terza generazione Questo vuol dire Che arriverete Sì a fine serata Utilizzandolo parecchio Però Diciamo che ci arriverete Con un 10 Un 8% Insomma Questa è stata La mia esperienza E se in vacanza Vi mettete a fare 7000 video e foto Non c'è arrivato A fine serata Non c'è niente da fare Però Devo dire che Considerando Che c'è la camera di vapore Considerando Insomma Il form factor Del prodotto Samsung È sulla buona strada Non è ancora In grado di competere Con le batterie Che per esempio Produce Honor Quelle sono sottilissime Danno una grande capienza Ma io sono convinto Che ci arriveranno Il fatto sta Che l'autonomia Non sarà un problema Con questo dispositivo Però forse potrebbe essere La ricarica Perché rimane La ricarica A 25 watt Cablata Quindi non c'è Una ricarica Veramente veloce La ricarica wireless Se non mi sbaglio È a 15 watt Giù Trovate la scheda tecnica Mi raccomando La ricarica inversa Wireless È a 4 watt e mezzo Quindi Da un punto di vista Della ricarica Samsung continua Ad essere indietro Rispetto ai competitor Così come Apple Per portarsi a casa Samsung Galaxy Z Flip 6 Serviranno 1279 euro Per la versione 12.256 1399 per quella 12.512 Quindi sì Rispetto all'anno scorso I prezzi aumentano Non c'è niente da fare Però non venite a dirmi Che è un prodotto Uguale a quello Dell'anno scorso Non venite a dirmi Che non ci sono novità Perché le novità Ragazzi Ci sono E sono Tante Secondo me Ultimamente Si considera Novità Solo una novità Estetica Ma da un punto di vista Hardware Insomma A prescindere da un paio Di cosette Come il sensore Per Dell'ultrawide Oppure lo schermo esterno Eccetera Ragazzi È uno smartphone Decisamente migliore Rispetto alla generazione Precedente Questo però Non vuol dire Che se avete Uno Z Flip 5 Vale la pena aggiornare Secondo me No Secondo me Non vale la pena aggiornare Rispetto allo Z Flip 5 Però se volete Un prodotto Con questo Fun factor Che vi dia prestazioni Da top di gamma E che abbia una buona autonomia Che migliore rispetto a quella del Razer Una Una buona fotocamera Che secondo me Migliore rispetto a quella del Razer Lui è veramente Un ottimo affare Poi se avete Possibilità di fare Un buon trade in Allora lì potete farci Un pensierino Va detto Che comunque Sia il Razer 50 Ultra Che questo Flip 6 Sono ottime alternative Ma sono alternative Che secondo me Si rivolgono a Come dire Tipologie di utenza Diversa Ed è bello Che il mercato Si è arrivato a questo Ad ogni modo Fatemi sapere Cosa ne pensate Nei commenti Se vi va Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Io sono Dario Calendo E ci vediamo al prossimo video su Giz